Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo di incarichi delle supplenze e le messe a disposizione per l'anno scolastico 2021-2022. Come prima domanda è la seguente. Posso lasciare una supplenza breve del dirigente scolastico avuta da gradatore d'istituto per una fino al 30 giugno dalle GPS? Sì, le supplenze brevi assegnate dal dirigente scolastico non possono essere lasciate per supplenze più lunghe proposte sempre dal gradatore d'istituto. Cioè non si può lasciare una breve per un'altra breve dalle gradatori d'istituto e dunque supplenza del dirigente scolastico, ma possono essere lasciate per una convocazione da GPS per supplenze al termine delle attività didattiche ovvero sia 30 giugno 2022 o per supplenze annuali fino al 31 agosto 2022. Seconda domanda. Sono inserito nella GPS della provincia di Enna. Posso fare domanda di messa a disposizione per la provincia di Catania? Per saperlo con certezza bisognerebbe attendere la nota ministeriale sulle supplenze 2021-2022 che di solito viene emanata per fine agosto. Per adesso possiamo solo dire che per l'anno scolastico 2020-21 in un primo momento era stato vietato a chi fosse inserito in GPS di presentare messa a disposizione, cioè domanda di messa a disposizione in un'altra provincia. Ma poi a causa della mancanza di aspiranti e dei tanti posti vacanti è stato concesso di presentare le MAD anche a chi era inserito in GPS, per cui è molto probabile che anche quest'anno ci sia questa opportunità. domanda numero 3. Se rinuncio a una nomina da una GPS, potrò accettare una nomina di gradatoria di istituto o una nomina da altra gradatoria GPS? La rinuncia o l'assenza alla convocazione che in mancanza di dedica equivale a una vera e propria rinuncia, comporterà la perdita della possibilità di conseguire supprenze sulla base delle GPS a seconda della gradatoria interessata dalla convocazione e solo per il relativo insegnamento, dunque solo per quella classe di concorso, limitatamente comunque all'anno in corso. Ma il docente rinunciatario potrà tranquillamente accettare nomina dalle gradatorie di istituto oppure nomina GPS per altra classe di concorso. Siamo giunti al termine di questa puntata, speriamo che le risposte alle domande siano utili ai nostri lettori. Continuate chiaramente a seguirci nei nostri canali social, alla Facebook e YouTube, sul nostro sito www.tecna.scola.it. Per il mese di agosto andremo in ferie, dunque la rubrica domanda risponde prenderà una pausa, ci rivedremo con l'inizio del nuovo anno scolastico. Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!